A proposito di bellezza e di amore, la settimana scorsa l'ospite che sta per entrare in studio cercava una moglie Ora ci ha riscritto, non sappiamo perché, vuole essere ospitato e una sorpresa Dobbiamo ospirarlo per forza Signore e signori, Dino il contadino! La sigla non è cambiata Ciao Dino Il biondo dei chips Io so dire il contadino, vengo da Grippino e sarò il primo cittadino Ah si è candidato Si è candidato A me A me Scusi, signor Dino, lei cercava l'amore, ora è arrivato qui e ha detto che sarà primo cittadino Ma se sarà, perché ha già la fascia da sindaco? No, questa è il fiocco della quinta elementare Mi sto allenando, come dire, diventare sindaco mi devo allenare Ma perché ha sindaco? E perché ci sono le elezioni di sindaco Oh calma calma calma, quindi lei è sceso in politica con quale partito? Con il mio movimento Il movimento, il movimento 5 stalle 5 stalle 5 stalle? 5 stalle 5 stalle, qual è il problema? No, nessun problema No, no, calma calma No, no, calma Mi sono per il popolo, sono magnane Eh ho capito, ma quale sarebbe il programma del movimento 5 stalle? Allora, la prima cosa, ripristiniamo il 110 Ah, il bonus facciate No, facciale Che senso? Se la vecchiarella arriva a 110 anni gli diamo un bonus facciale, capisci? Ti fa la vecchiarella Ma tu, ad agrippini si cambia bene Calma E chi l'ha messo in dubbio? Poco a fu Si arriva fino a 160-170 anni Amen, direi, amen Infatti abbasserò anche il fondo pensionistico Sì Invece di andare in pensione a 145 anni, si fa 140 Addirittura Dice che è poco? Eh no 5 anni di sconto sono pochi E sono pochi, sì E allora 130, perché sono per il popolo, sono magnane Eh magnane, ma no A me che fu Altri punti del programma? Eh no, che ne so, per esempio possiamo dare anche un sussidio a fine mese Oh, il reddito di cittadinanza? No, di contadinanza Qual è il reddito di cittadinanza? Il reddito di contadinanza? Ma che cos'è? Quante è? O che fu, ma che pensi sempre i soldi? O che fu a me? O che fu, ma che pensi sempre i soldi? Io non ho proprio detto niente Quello che c'ho lì da essere rovinato Per colpa nostra? Per pensare i soldi, i soldi Noi daremo un cesto A fine mese daremo un cesto dentro ci mettiamo un formaggio, un po' di salame Una bella bottiglia di vino di Agrippino Quello che è ammazzato con i piedi Che schifo Eh, che schifo Con l'ognacarnata Ma che è, mamma mia? E' più saporito Ma che brutta immagina Fa sapore No, no O che fu, hai capito? O che fu a me? Hai capito? Allora, perché il cibo? E' perché si sa In Italia è tutto un magna magna Mamma mia Ma questo è populismo Ma dice lui È populismo Allora, visto che ci sono le telecamere Posso rivolgermi ai miei concittadini Vai con il programma politico Vai E che fu No, no, non puoi sordire così Potete dire il contadino come primo cittadino Certo, ho capito perché Ho capito perché Ho capito perché Col programmino Dino il contadino Prende anche l'appaltino O che fu? O che fu a me O che fu? A me Ma che pensate? Sei mesocchi Noi Quello che c'ho l'Italia Si è rovinato Perché pensate sei mesocchi Ma non è vero E che fu? E così E tu, tu magna magna Vabbia così Mariano Bruno